Sono una ragazza fortunata, grazie chiocciola Lorenzo Iova, così Nadia Toffa commenta il servizio delle Iene. La conduttrice inviata ha interrotto il concerto di Lorenzo Giovanotti, costringendolo a indossare i panni da Iena e a spiegare come si fa. Durante il concerto è stato sancito una sorta di gemellaggio tra il programma di Italia 1 e l'artista. Ciao bionda Ea, urla Giovanotti quando la vede sul palco. Ma a emozionare i telespettatori è stata l'accoglienza che ha riservato Giovanotti a Nadia Toffa sul palco. Le ha dedicato qualche verso alla chitarra, poi le ha cantato bella adattandola e quindi ha concluso la performance con un messaggio speciale, ti vogliamo bene. La Iena si è sciolta davanti alle tantissime persone che stavano seguendo il concerto di Giovanotti, ed è scappata anche qualche lacrima per l'emozione. A coronare il tutto un bell'abbraccio tra i due. Il servizio è stato seguito anche da Marco Cappato, che ha twittato, Lorenzo Giovanotti, come si fa con l'eutanasia? Si fa cambiando la legge. Bravo chiocciola Lorenzo Iova. Clicca qui per il servizio di Nadia Toffa. Ag. Di Silvana Palazzo. Nadia Toffa è tornata alle Iene, la giornalista bresciana è dietro al bancone con Nicola Savino e Matteo Viviani per condurre la nuova puntata. L'assenza di domenica scorsa aveva fatto preoccupare telespettatori e fan, motivo per il quale è intervenuta su social per spiegare che aveva bisogno di sottoporsi a delle cure. La battaglia contro il tumore prosegue e da brava guerriera Nadia Toffa prosegue le terapie che i medici le consigliano. La Toffa comunque ha rassicurato tutti anche nell'apertura del programma, sto bene, sto bene. Poi dopo il primo servizio ha spiegato, mi sono ricaricata, ma mi siete mancati un sacco, anche se sono mancata per una sola domenica. È stato comunque bello vedervi da casa. I colleghi l'hanno poi prese in giro per il look di oggi, Nadia ha infatti optato per un completo verde. Come mi vedi? Dai, ho avuto del tempo libero. Savino e Viviani però continuano a prenderla in giro, dai, è un verde speranza. Nadia Toffa si gode gli applausi del pubblico delle Iene. Nell'intro della puntata dalla 500 alla 1 oggi Nicola Savino e Matteo Viviani hanno annunciato il ritorno della collega e appena hanno fatto il suo nome il pubblico in studio è esploso in un fragoroso applauso. La scena è stata ripresa anche dalla pagina stessa del programma, che ha poi ripreso la reazione della giornalista, visibilmente colpita. Qualche secondo prima aveva parlato nella diretta Facebook, sono quasi pronta, aveva annunciato. E quando le fanno notare il colore del suo completo risponde, oggi sono molto vitaminica. Non sono mancati altri retroscena. Quando ha parlato della sua settimana senza le Iene, è intervenuto Nicola Savino con una rivelazione curiosa. Io e la Toffa abbiamo fatto un'irruzione al concerto di Giovanotti, ha spiegato Savino.